Il castello aragonese cerca un nuovo proprietario, qualcuno che sia disposto a prendersi cura della storica dimora dei continaselli d'Aragona, signori di Comiso e feudatari di Aragona e fondatori della cittadina omonima. L'attuale proprietario, Giuseppe Nifosi, ha deciso infatti di mettere l'immobile in vendita. Si tratta di un bene di interesse storico e architettonico di pregio che negli anni 30 del secolo scorso è stato dichiarato monumento nazionale. Il comune purtroppo però non ha i fondi per l'acquisto dell'edificio storico e l'unica cosa che può fare è quella di cercare di coinvolgere altri enti o di partecipare a dei bandi che permettano di reperire i fondi necessari. Intanto la città si sta mobilitando per il castello aragonese e l'appello affinché non venga abbandonato è stato lanciato da diversi esponenti del mondo culturale, oltre che da professionisti ed imprenditori blei. Tra questi la scrittrice grecista, Eva Cantarella, i docenti universitari Giombattista Menta, Gian Biagio Conte, Paolo Barresi, Emanuele Brienza, Anna Sereni, Biagio Guccione, Daniela Patti, Salvatore Riolo, Francesco Tiradritti e Nunzio Zago. A questi si sono aggiunti diversi docenti liceali e professionisti come l'architetto Biagio Catalano e lo storico Francesco Ereddia ed artisti come il pittore Salvo Barone e lo scultore Luigi Garofalo. Tutti uniti affinché si riesca a trovare un modo per restituire alla città il maniero che potrebbe rappresentare una risorsa dal grande valore turistico per il nostro territorio.